Siamo partiti molto timorosi, abbiamo rinunciato a giocare quasi da subito, è vero che Teramo ci pressava alto, ma dovevamo avere un po' più di coraggio, dovevamo avere un po' più di ritmo di gioco, non l'abbiamo fatto e quando incontri una squadra che ha qualità come Teramo ha, puoi andare in difficoltà. L'analisi che hai fatto è corretta, potevamo fare meglio, c'è da dire che siamo ancora un po' indietro, abbiamo giocato pochissime partite, quindi sapevamo che dovevamo lavorare, che dobbiamo diventare squadra prima possibile, perché sabato iniziamo, quindi inizia questo percorso, è una crescita che dobbiamo andare a ricercare giorno per giorno, partita dopo partita e cercare di farlo il prima possibile. Quando cambi molto all'inizio puoi fare un po' più fatica, ecco, abbiamo preso questa strada con la società per affrontare un campionato diverso e quindi, niente, io sono sereno perché dobbiamo fare quello per cui siamo chiamati, lavorare e cercare di migliorare giorno per giorno, secondo me questa squadra ha le potenzialità per fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi, anche se poi tutto sommato qualcosina sotto certi aspetti abbiamo fatto, ma dobbiamo tutti quanti ricercare qualcosa in più rispetto a oggi, perché il campionato è un campionato diverso e non c'è molto tempo.